buongiorno a tutte e a tutti mi chiamo emiliano poddi sono uno scrittore insegnante qui alla scuola holden e oggi vi parlo della mia ossessione di una delle mie ossessioni ma forse di quella principale la parola ossessione qui a scuola per me perlomeno è legata alla scena di un film film è piuttosto famosa e blade runner a un certo punto l'inventore dei replicanti colui che li ha costruiti dice a harrison ford cominciamo a riconoscere in loro delle strane ossessioni che è diciamo un sintomo da parte di questo scienziato che loro stanno diventando umani più umano dell'umano è lo slogan della tyrell corporation l'ossessione in un certo senso è qualcosa che che ci rende umani e la mia ossessione come dicevo è legata a questa poetessa polacca di slava gimborska e non saprei dire esattamente quando è iniziata però in compenso sono in grado di specificare quando è stata certificata questa ossessione ed è una data triste in realtà è il giorno della morte della poetessa il primo febbraio del 2012 perché dico che è stata certificata quel giorno perché evidentemente a lezione erano state così tante le volte in cui io l'avevo citata ed era stato tale il trasporto con cui ne avevo parlato e letto le sue poesie che dai miei studenti ho cominciato a ricevere sms di circostanza del tipo ci siamo ti siamo vicini ci dispiace per la tua perdita era una persona straordinaria un po come se fosse mia nonna e in effetti insomma a quel punto gimborska per me era un po mia nonna di quelle nonne se guardate le sue fotografie soprattutto dell'ultima parte della sua vita di quelle nonne e dall'aria un po furbetta alle quali i nipoti confessano le cose che non che normalmente non dicono ai genitori per cominciare a capire che tipo è dal punto di vista proprio umano gimborska e volevo partire da un documentario che è stato fatto su di lei nell'ultima parte della sua vita e si intitola la vita a volte è sopportabile il ritratto ironico di vislava gimborska e di catarzina colenda zalesca che nel documentario poi quando dialoga con gimborska viene chiamata più semplicemente casia ed è già sì molto significativo il dialogo di apertura di questo documentario ci sono queste due donne la documentarista molto giovane e la gimborska che stanno parlando di quello che sta per avvenire cioè dell'intervista che gimborska si sottoporrà ma curiosamente ed è questo un dato che recupereremo c'è una sorpresa c'è un'inversione e gimborska a intervistare la documentarista e le chiede ma da quanto tempo fai questo lavoro ma più o meno da una quindicina d'anni e ti piace sei soddisfatta di questo lavoro beh sì alti e bassi però forse io qui sto raggiungendo il mio alto il mio la mia vetta il mio culmine perché sto per realizzare un documentario sulla poetessa premio nobel per la letteratura di slava gimborska lei annuisce un po e poi così e qui lì si capisce che non era tanto concordato e non era scritto in sceneggiatura dice ma è ancora viva sorpresa che di essere ancora viva di essere una poetessa oggetto di un di un documentario ecco noi fra le varie domande a cui proverò a rispondere ma insomma è una domanda dall'esito quasi scontato e se gimborska è ancora viva abbiamo detto è morta nel nel 2012 ma poi nel corso del tempo diciamo non solo la sua popolarità ma anche gli studi le letture i film a lei dedicati sono si sono intensificati sono cresciuti nel nel corso del tempo ancora su di lei prima di inquadrarla leggeremo alcune sue poesie e prima di inquadrarla dal punto di vista poetico vorrei ancora dire qualcosa di lei sulla su che tipo fosse su che donna fosse e così in ordine sparso le piacevano i cappelli molto colorati alla maniera della regina elisabetta e per esempio nel documentario ne sfoggia diversi collezionava oggetti kitsch e questa è diventata a sua volta diciamo un'ossessione per gimborska in particolare essendo una fumatrice come come vedremo adorava gli accendini kitsch e il pezzo principe della sua collezione era un accendino a forma di sottomarino schiacciando sul periscopio usciva fuori la fiamma un oggetto di cui era molto orgoglioso anche se poi questi oggetti kitsch diventano un'arma a doppio taglio perché nel corso della sua vita ne riceve tantissimi tutti quanti quelli che fanno un viaggio che poi vanno a visitare gimborska in polonia si sentono quasi obbligati a portare degli oggetti raccapriccianti allora lei sarà costretta a inventarsi delle riffe delle pesche alla fine delle cene per poterli riciclare per poterli sbolognare a qualcuno e andava matta per una telenovela brasiliana che si intitolava la schiava isaura e a quanto pare cadde in una specie di piccola depressione quando la telenovela finì come dicevo fumava dappertutto non si tenne nemmeno nel corso delle varie cerimonie in cui fu celebrata la segnazione del Nobel fumò anche al cospetto del re di Svezia che reagì come si reagisce al cospetto di qualcuno che ti ingloba nel suo mondo cioè si mise a fumare pure lui invece di rimproverarla si adeguò al modo di fare di gimborska le piacevano le barzellette in particolare le piaceva questa che vorrei leggervi ora insomma me la ricordo più o meno è einstein muore va in paradiso e c'è una domanda che vorrebbe fare a dio dio c'è una cosa che mi sono sempre chiesto con che principi ha creato l'uomo e dio dice ma guarda semplice almeno per te e si mette a disegnare alla lavagna a scrivere alla lavagna una formula un'equazione complicatissima einstein la guarda attentamente dice ma insomma dio qui c'è un errore che si ripete all'infinito e dio appunto l'imperfezione l'errore che l'uomo la vista con granello di sabbia che è una il titolo di una famosa poesia di gimborska e di una sua raccolta perlomeno in italiano a proposito di nobel per un periodo lei perse la medaglia per che le avevano assegnato cioè come se a un calciatore a cui hanno dato il pallone d'oro non lo trovasse più si dimenticasse dove l'ha messo d'altra parte lei considerava il nobel una sorta di sciagura perché all'improvviso era finita sotto i riflettori e poi tra questa specie di biografia strampalata che stiamo disegnando un po a puzzle l'ultimo tassello che vorrei consegnarvi è che lei a lei piacevano moltissimo i cartelli stradali con i toponimi bizzarri facciamo un esempio se fosse stata in puglia io sono pugliese c'è un paese vicino santa maria di leuca quindi proprio sul sul tacco che si chiama depressa ecco se gimborska fosse andata in puglia magari per un festival letterario avrebbe costretto il suo autista a fare una deviazione pur di arrivare fino a depressa farsi fotografare accanto al cartello e poi comporre dei limerick che sono queste poesie questi scherzi e con cui cominciamo a familiarizzare l'avrete già capito con una delle caratteristiche che da questo momento in poi chiameremo superpoteri di gimborska dopo capiremo perché cioè la sua capacità di divertirsi no forse troppo spesso noi siamo abituati a considerare la figura del poeta come una figura autoritaria pesante c'è il busto marmoreo del poeta ecco gimborska sembra lontanissima da tutto questo sempre riferimento all'occasione più solenne in cui l'abbiamo vista protagonista nel corso della sua vita cioè l'assegnazione del nobel del 96 il momento più solenne in assoluto forse è quello in cui lo scrittore premiato la scrittrice premiata sale sul palco e pronuncia il suo discorso e lei molto elegante molto compita non si sottrae e quando sale sul palco dice la seguente frase inizia così in un discorso pare la prima frase è sempre la più difficile osserva una piccola pausa e poi dice e dunque io questa prima frase ce l'ho già alle mie spalle l'occasione più importante della sua vita il discorso più solenne lo inizia con uno scherzo con un gioco di parole se la cava così no poi va avanti dicendo ma anche sento che la seconda frase sarà difficile la terza e la quinta tutte le frasi saranno difficili ma per il momento lei è riuscita a scavallare questo ostacolo con con un agile escamotage no e la sua capacità di giocare con con le parole si vede in svariate occasioni e in particolare vorrei cominciare da una poesia che le ha scritto dedicandola a un oggetto narrativo piuttosto bizzarro ma non insolito nella letteratura anche se consideriamo proprio la nobile lista dei premi Nobel per la letteratura sto parlando della cipolla il soggetto di cui ci occupiamo adesso è la cipolla già Pablo Neruda credo nelle odi elementari aveva parlato della della cipolla e scrive per esempio Neruda cipolla luminosa ampolla petalo su petalo si è formata la tua bellezza squame di cristallo ti hanno accresciuta e nel segreto della terra buia si è arrotondato il tuo ventre di rugiada una meraviglia e la meraviglia che negli occhi del poeta che riesce a restituire anche a noi no più avanti Neruda dirà che da lei dalla cipolla sgorga l'unica nostra lacrima senza pena è una lacrima che viene fuori per per ragioni chimico fisiche non per per una tristezza e poi ancora pianeta luminoso stella dei poveri rotonda rosa d'acqua proprio innamorato perso di questa cipolla e Jim Borsk è come se facesse una specie di dialogo a distanza con Neruda all'inizio scherzandoci su però non perché non prenda sul serio l'oggetto della della sua poesia per Jim Borsk non esiste un oggetto poetico su cui al tempo stesso non si possa scherzare non si possa essere lievi ma al tempo stesso dannatamente seri no per lei il gioco con le parole lo vedremo questo più avanti era qualcosa che somiglia al gioco dei bambini provate a interrompere i bambini quando stanno giocando no e loro prendono dannatamente sul serio quello che stanno facendo durante il gioco dunque immaginatevi questa poetessa che si mette lì e scrive la cipolla magari avendo in testa Neruda e inizia con una frase che sembra una una celebre frase di 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 Roth in pastorale americana dove dice il basket è un'altra cosa qui è la cipolla è un'altra cosa interiora non ne ha completamente cipolla e qui le serve una parola comincia a giocare con la possibilità di di plasmarlo il linguaggio se non esiste la parola adatta che le serve quindi completamente cipolla fino alla cipollità l'essenza della della cipolla no e fuori com'è e cipolluta cipolluta di fuori cipollosa fino al cuore qui bravissimo il traduttore marchesani di cui avremo modo di parlare più tardi la cipolla potrebbe guardarsi dentro senza provare timore perché è sempre uguale non è sempre trasparente cristallina in noi e qui scatta il confronto tra la cipolla è in definitiva credo l'oggetto di vero di qualsiasi poesia che è l'essere umano no in noi cosa c'è dentro di noi si chiede la poetessa ignoto e selve di pelle appena coperti interni d'inferno qui c'è una espressione splendida violenta anatomia ma nella cipolla e qua è come se si mettesse così a cercare cosa c'è dentro la cipolla trattino cipolla nella cipolla c'è un'altra cipolla non viscere i ritorti lei più e più volte nuda fin nel fondo e così via e qui comincia con lo stile a innalzarsi a dedicare un vero e proprio inno quindi qui siamo veramente sulla scia di neruda no coerente e la cipolla riuscita e la cipolla nell'una e costa l'altra nella maggiore la minore anche di cosmi con una perfezione quasi che ci fa pensare al cielo agli astri e nella seguente la successiva cioè la terza e la quarta una centripeta fuga un eco in coro composta c'è della musica non solo nei versi ma proprio nel concetto stesso di cipolla abbiamo detto che fin qui lei segue neruda cioè a suo modo giocando scherzando un po di più con con le parole però innalza una lode alla cipolla sembrerebbe a discapito di noi di esseri umani complicati con questa anatomia incasinatissima malapena coperta e nascosta da uno strato di pelle no un vero disastro sembrerebbe e però poi arriviamo alla strofa finale e qui c'è uno dei motivi della mia ossessione per per gimborska e credo dell'ossessione di tanti nella lettura di queste poesie non si può mai stare tranquilli tu ti abitui a questo andamento a questi versi meravigliosi che cantano la cipolla però devi sempre aspettarti che ci sia uno scarto una deviazione brusca come se facesse delle micro finte letterali e poi ti mandasse proprio da un'altra parte e infatti conclude gimborska la cipolla d'accordo qui è quasi come se stesse ok 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 neruda ok tutti questi versi ispirati che abbiamo dedicato alla cipolla il più bel ventre del mondo a propria lode di aureole da sé si avvolge in tondo in noi e qui torna al paragone grasso nervi vene muchi e secrezione il punto più basso che schifo no rispetto a tutta quella cristallina perfezione ultimi due versi e qui che c'è lo scarto e a noi resta negata l'idiozia della perfezione e i versi che capovolgono tutto no siamo complicati questo ci rende umani siamo imperfetti anche questo ci rende umani e la cipolla con la sua perfezione non ha margini di miglioramento non c'è possibilità di introspezione perché una volta che ti cali nello strato seguente è uguale a quello precedente mentre noi siamo una continua scoperta sempre in quel famoso discorso per il nobel gimborska dirà che le due paroline più importanti per un poeta e forse più in generale per un essere umano sono non so quindi questo desiderio di andare oltre di cercare di scoprire no è quello che c'è ancora da scoprire qui parlavo prima dei superpoteri della di questa poetessa abbiamo visto il gioco la capacità di divertirsi con le parole la leggerezza ma al tempo stesso forse quando meno te l'aspetti quando ti sei abituato al tono leggero un affondo no un'entrata nella profondità da poeti noi ci aspettiamo che ci svelino qualcosa sul senso della vita e gimborska non si sottrae ma non ha mai l'aria di farlo non ha mai l'aria di salire in cattedra per spiegarci come va la vita sembra sempre una così che viene affascinata da uno spettacolo che ha davanti agli occhi in questo momento la cipolla sarà un altro oggetto un'altra immagine e da lì da questo piccolo particolare riesce a ricavare qualcosa di importante sulla sulla vita no su come va il mondo e marchesani il traduttore che avevo citato in precedenza in una sua bellissima prefazione a una delle raccolte con cui gimborska è stata conosciuta in italia ha parlato con un bellissimo ossimoro a proposito della sua poesia di pensosa leggerezza no la sua è una leggerezza è quello che percepisci fin dall'inizio però è pensosa ma pensosa anche nel senso per noi in italiano lingua che deriva dal latino etimologico del termine non pensare vuol dire pesare soppesare le parole però per lei questo questa capacità di soppesare le parole di addentrarsi nelle viscere degli esseri umani abbiamo visto che non è un modo di dire non è non è un gesto di pesantezza riesce a affrontarlo con quella leggerezza che le è propria e poi il terzo aspetto che è il terzo superpotere che abbiamo già sfiorato è la sorpresa la capacità di essere spiazzante la capacità di deviare all'improvviso dalla strada che sembrava aver imboccato all'inizio e che sembrava doverci condurre fino all'ultimo verso questo è uno dei casi in cui e in parte l'abbiamo visto anche attraverso quei pochi cenni che ho fatto sulla sua biografia è un tratto questo della della sorpresa dell'essere spiazzante che accomuna tanto la sua produzione poetica quanto la sua stessa vita lei vince il nobel nel 96 passano vent'anni siamo nel 2018 e il nobel viene vinto da un'altra polacca una scrittrice si chiama olga tokarciuk anche lei anche di lei vi consiglio di cercarvi il discorso di accettazione del nobel che è un discorso meraviglioso però io ho idea che qualche minuto prima di salire sul palco a tokarciuk a olga fosse venuto in mente il ricordo di di quando aveva visto dal vivo per la prima volta gimborska è successo a cracovia in un bar tanti anni prima tokarciuk aveva già pubblicato qualche libro ma non era così famosa mentre gimborska non so se avesse già vinto il nobel o comunque era in odore di nobel era già sicuramente in polonia ma anche nel nel resto d'europa e del mondo un personaggio pubblico oltre che una poeta straordinaria cosa succede quando vedi marette realizzarsi davanti a te un tuo idolo no e specie se hai guardato a questo idolo come una fonte di ispirazione beh forse il primo movimento quello più istintivo è di andare da lei a conoscerla a cercare di così anche scambiare due parole per per avere un contatto umano però per qualche motivo olga non lo fa se ne resta al suo tavolo forse perché è consapevole del fatto che i poeti non è detto che quando stanno non lo so prendendo un caffè o conversando con qualcuno con una parte del loro cervello non stiano allo stesso tempo componendo dei versi e qui torna una buona una frase che forse sì forse no non lo sapremo mai ha pronunciato un altro polacco perlomeno di origine che joseph conrad poi diventato inglese e insomma in quella lingua si esprimerà però a lui attribuita questa frase come faccio a spiegare che a mia moglie che quando guardo fuori dalla finestra sto lavorando scrittori e poeti possono lavorare anche nel momento in cui sembra che non lo stiano facendo no con questo sguardo appuntito rapace capace di cogliere gli elementi della realtà che poi si tradurranno in una in una pagina quindi no dice olga meglio non disturbare jim borsca sarà per un'altra volta ordina un caffè e comincia a berlo anche lei ormai si è quasi dimenticata della presenza della poetessa quando si sente picchiare su una su una spalla si volta e il dialogo è più o meno questo qua e jim borsca che è sorridente un po timida dice mi scusi non vorrei disturbarla ma figuriamoci nessun disturbo balbetta olga no e jim borsca sa signora tokarciuk io sono e lei si lo so lei è io sono la sua più grande ammiratrice dice e vislava jim borsca anche qui il capovolgimento la sorpresa lo stesso capovolgimento che abbiamo per esempio intravisto nell'inizio del documentario dove è lei a intervistare la sua giovane intervistatrice no e dunque una serie di capovolgimenti una serie di ossimori una pensosa leggerezza volendo un altro simoro almeno nei nostri tempi è una poetessa famosa è perché non sono tanti i poeti e le poetesse che al giorno d'oggi hanno conquistato così largamente il pubblico a me è capitato una volta in catarra se ricordo bene all'aeroporto di doha di vedere scorrere in inglese dei versi su un display versi che mi suonavano familiari anche se io jim borsca l'ho letta in italiano chiaramente ho pensato no c'era una poesia di jim borsca all'aeroporto di doha nel catar no e poi è una la capacità di essere nella sua poesia semplicissima e anche filosofica seria nel gioco come abbiamo detto che sanno fare i bambini no ecco ma come si fa a tenere insieme questi opposti come si fa a creare no un'armonia dove gli opposti invece che confliggere fra di loro creano un complesso da cui noi siamo come lettori sedotti e conquistati vorrei raccontarvi un episodio che ha a che fare con il processo creativo che sta alla base perlomeno di una delle poesie fra l'altro credo che sia quella cui sono più affezionato di vislava jim borsca se noi possiamo entrare un po nel laboratorio nella bottega di jim borsca lo possiamo fare grazie al fatto che il suo segretario particolare che si chiama michael rusinek ha scritto un libro pubblicato in italia da ad elfi col titolo nulla di ordinario un titolo molto jim borschiano peraltro in cui appunto lui racconta racconta il retroscena della vita accanto alla poetessa e fra i vari episodi che che racconta c'è questo scrive rusinek segretario particolare di vislava jim borsca un giorno natalia che la bimba piccola di rusinek la figlia sedeva come al solito legata al seggiolone di fronte al tavolo e io la imboccavo mentre bevevo il caffè squillò il telefono e lui precisa fisso siamo in un'epoca già di cellulari e lo suono del telefono fisso ci sorprende andai nell'altra stanza per rispondere sollevai il ricevitore e mi voltai verso natalia proprio nell'istante in cui cominciava a tirare via la tovaglia dal tavolo un secondo dopo tutto ciò che c'era sul tavolo era atterrato sul pavimento anziché dire pronto gridai nella cornetta qualcosa di inarticolato la signora vislava perché naturalmente era lei a telefonare perché chiamava solo sul fisso mi chiese cosa fosse successo immaginate tu chiami qualcuno invece di dirvi pronto questo va e chiede che cosa è successo e rusinek descrive la situazione aspettandosi da parte di jim borsk almeno dice una minima espressione di compassione nulla di tutto questo non da una poetessa sentì dire soltanto sa che cosa è un buon tema per una poesia e riattaccò a me piace molto il fatto che jim borsk abbia riattaccato il telefono e sia stata lei a telefonare quindi vuol dire che questo impulso a tradurre quasi immediatamente in versi l'episodio a cui pure non ha assistito se non di riflesso era è qualcosa che scavalca d'urgenza tutto quello che avrebbe dovuto dire al telefono al suo segretario no cioè è proprio un bisogno impellente di cercare di dare una forma a quello che è accaduto quindi l'episodio di partenza è chiaro ed è un'esperienza che più o meno abbiamo o vissuto perché siamo stati noi quel bambino quella bambina che hanno tirato giù la tovaglia o abbiamo assistito a una scena del genere vediamo come jim borsk trasforma plasma questa esperienza trasformandola in una delle poesie più apprezzate e ne approfitto per dirvi adesso che siamo più o meno a una mezz'oretta che voi potete chiaramente intervenire scrivendo le domande sulla sulla chat alla fine io proverò a raccogliere queste domande negli ultimi dieci minuti l'ultimo quarto d'ora se se sarò capace proverò a rispondere dico se sarò capace fedele al motto di jim borsk per cui le parole più importanti sono non so quindi se non so rispondere vi dirò non so e farò anche per la figura perché è una citazione ma proverò a rispondere dunque la poesia si intitola una bimbetta tira la tovaglia quindi qui è strano già perché a noi sembra naturale no che la poesia possa intitolarsi in questo modo ma se ci riflettete questo è spoiler cioè lei nel primo verso ha detto come andrà a finire la faccenda c'è una bimbetta che tira la tovaglia mentre nel racconto da cui siamo partiti la bimbetta che tira la tovaglia è più o meno l'ultima cosa che succede no quindi lei qui anticipa quello che accadrà nel finale non gli interessa il fatto in sé qual è il punto questo vale per jim borska ma vale più in generale per qualsiasi scrittore che voglia trasformare un semplice aneddoto in un racconto l'aneddoto è qualcosa che io posso raccontare ma non necessariamente chi lo riceve si aspetta un significato sotto no cioè che si aspetta che quella quell'aneddoto sia pregno di senso mentre invece la poesia un racconto risponde a quel principio che è stato codificato in un certo senso dallo scrittore israeliano gross ma secondo cui chi scrive ha una funzione quasi religiosa perché dà senso da veloce del verbo dare senso e significato alle cose che non ce l'hanno non ce l'hanno in partenza no e quindi in questo senso religiosa una bimbetta tira la tovaglia ecco che significato io provo ad attribuire a questa a questo accadimento inizia così è da più di un anno che si è al mondo e a questo mondo non tutto è stato studiato e messo sotto controllo io lo trovo già meraviglioso io sono sicuro di essermi innamorato di questa poesia già a questo punto mi ha sorpreso già il fatto che benché il punto di vista sia quello di una bambita le una bambina lei usi questa forma impersonale no e da più di un anno che si è al mondo e non tutto è stato studiato poi capiremo insieme come mai no questa specie di allontanamento quasi come se fosse un trattato ma pare anche di vedere questo il piglio di una bambina che con il ditino alzato dice beh siamo un po in ritardo sulla tabella di marcia dell'esplorazione di questo mondo ora sono sotto esame le cose che non possono muoversi da sole ed ecco che cosa succede nel momento in cui tu assumi il punto di vista di una bambina il mondo immediatamente si trasforma alzi la mano o scriva sulla chat più propriamente chi di voi ha mai pensato che il mondo si divide in cose che possono muoversi da sole e cose che no la cultura la scuola e l'educazione ci hanno abituato a pensare che sono altre le suddivisioni non so rocce piante animali esseri viventi essere esseri non viventi ma la bambina che sta esplorando il mondo e cercando di capirlo pensa che la distinzione che si può fare questa cose che possono muoversi e cose che no bisogna aiutarle a farlo spostare spingere prenderle da dove sono e trasportarle non tutte lo vogliono perché le cose piano piano si animano di volontà diventano da oggetti inanimati a oggetti che assumono lo status di veri e propri personaggi no ad esempio l'armadio la credenza le inflessibili pareti le pareti proprio niente non ne vogliono sapere il tavolo e arriviamo al punto quello che ha ispirato la poesia ma la tovaglia sul tavolo e qui Jim Borsca cerca l'aggettivo no cioè se le pareti sono inflessibili il tavolo com'è beh insomma non vuole spostare però è ostinato non è proprio inflessibile sul tavolo ostinato la tovaglia se afferrata bene per gli orli manifesta già la volontà di viaggiare mettetevi nei panni di una bambina no non so se avete presente una bambina di un anno un concentrato quasi inesauribile di energia un'energia che si sprigiona in urli in corse in salti e quindi a lei sembra strano no che il resto del mondo non si comporti allo stesso modo quindi per forza anche un tavolo ostinato e insomma ha la sua volontà di viaggiare figuriamoci la tovaglia là sopra e sulla tovaglia sentite questa meraviglia di strofa i bicchieri i piattini la brocchetta con il latte li vediamo no piano piano i cucchiaini la scodella ultimo verso addirittura tremano per la voglia il movimento che lei sta imprimendo causa un tremore a questi oggetti che lei interpreta come un'impazienza una voglia di andare no di spiccare il volo e poi ci si ferma abbiamo detto che questa è una poesia ma il tempo stesso è quasi una specie di trattato scientifico come se quel linguaggio che abbiamo visto all'inizio quel linguaggio dal piglio scientifico appunto impersonale le servisse per ribadire la serietà di questo esperimento è interessante quale movimento sceglieranno ormai le cose sono dotate chiaramente anche di libero arbitrio quando ormai vacilleranno sul bordo che succede una volta che si arriva lì è la bimbetta che è un anno che se lo chiede no e per lei sono plausibili queste ipotesi un viaggio lungo il soffitto un volo intorno alla lampada un salto dal davanzale e lì all'albero spariranno per sempre queste cose mancano pochi versi alla fine io in genere qui in classe faccio un esercizio una specie di provocazione o come dire suggerimento no prova a chiudere tu questa poesia come finisce questa poesia noi sappiamo che nella realtà finisce con il fragore di queste scodelle di questi piattini che cadendo per terra si si distruggono e volendo recuperare proprio tutti gli elementi della scena anche con il grido del padre che ha assistito a questa scena no beh però abbiamo detto che per gimbosca è difficile che possa accadere di non essere sorpresi soprattutto nelle svolte finali no nel negli scarti improvvisi che avvengono negli ultimi versi della sua poesia quindi abbiamo detto cosa faranno queste cose se ne andranno lungo il soffitto un bel giro attorno alla lampada oppure spariranno proprio fuori dalla finestra a capo il signor newton scrive gimbosca non ancora nulla a che fare con questo guardi pure dal cielo e agiti le braccia questo esperimento deve essere fatto e lo sarà cambio vertiginoso di punto di vista come se lei avesse usato un dolly dolly è quella macchina che nel cinema serve per per andare in alto e si è andato a pescare quasi il cartone animato di newton che nell'alto dei cieli si sbraccia e dice no no non lo fare la mela cioè ci abbiamo già lavorato su questo ma quella è una bambina no e allora la cosa importante è che questo esperimento deve essere fatto e lo sarà gimbosca in questa poesia è in grado di fermare il tempo di non arrivare al momento in cui sentiremo il fragore degli oggetti che cadono per terra e abbiamo parlato quindi della sua capacità di sorprenderci e abbiamo anche come dire anzi perlomeno io vi ho promesso che vi avrei detto come no si arriva a poter sorprendere gli altri beh io credo che altra via non ci sia se non quella indicata da gimbosca stessa cioè per poter essere spiazzanti nei confronti degli altri per potersi sorprendere noi per primi dobbiamo essere sorpresi noi per primi dobbiamo avere uno sguardo nei confronti della realtà che è uno sguardo carico di sorpresa e di attenzione in un'altra sua memorabile poesia che lì è spiazzante fin dall'inizio scrive gimbosca oggi mi sono comportata male nel cosmo che è bellissimo perché insomma rende questo comportarsi male questo cattivo comportamento della poetessa quasi universale cosmico no e che cosa consiste questo essersi comportata male nel cosmo per un poeta che vuol dire non stare al mondo come si dovrebbe e dice beh il sole è sorto e poi è tramontato alcune foglie sono cadute dagli alberi il tempo è passato e delle persone mi sono passate davanti alcune le ho riconosciute altre no adesso vado a memoria alcuni versi probabilmente li sto inventando ma il senso è mi è passata una realtà davanti agli occhi e nemmeno per un attimo io ci ho fatto attenzione il peccato più grave che possa commettere un poeta e dare le cose per scontate non meravigliarsi e di fatti la poesia si intitola appunto disattenzione oggi mi sono comportata male nel cosmo vale a dire oggi non non sono stata attenta e questa capacità che aveva gimbosca che aggiungiamo agli altri suoi superpoteri di giocare anche con il tempo no abbiamo visto in questa poesia come ci aspetteremmo che tutto vada a convergere verso la caduta di questi oggetti nella fine invece tutto si ferma è ancora più visibile in un'altra poesia qui le accosto volentieri queste due poesie proprio per far capire che agli occhi di un poeta non ci sono argomenti seri argomenti non seri lei tratta con la stessa serietà la stessa cura formale i versi dedicati a una cipolla oppure come stiamo per vedere addirittura uno degli eventi epocali no del nostro tempo vale a dire l'undici settembre capacità di degli scrittori delle scrittrici delle poetesse di andare a impattare anche sui grandi obiettivi no cioè non soltanto andare a vedere le cose nascoste scovarle e andare a guardare dove gli altri non non guardano ma anche provare ad affrontare i grandi temi grandi mostri del nostro tempo anche quando queste immagini sono passate davanti ai nostri occhi così tante volte che sembrano quasi usurate cos'altro abbiamo da scoprire su quelle immagini che abbiamo visto così tante volte beh se ci affidiamo alla vista con granello di sabbia di slava gimborska che aveva una capacità quasi di osservare la realtà e di cogliere negli aspetti più più reconditi ecco che qualcosa da scoprire c'è ancora lei chiama questa poesia fotografia dell'undici settembre quindi non abbiamo delle immagini che scorrono ma una specie di istantanea una fotografia naturalmente anche il suo tempo cioè ci sono gli istanti che hanno preceduto quello scatto il presente dello scatto e le immagini che poi si rimettono in moto dopo quello scatto no inizia così sono saltati giù dai primi piani scusate sono saltati giù dai piani in fiamme 1 2 ancora qualcuno sopra sotto quindi l'immagine è non gli aerei ma gli aerei hanno già impattato con le torri le torri sono incendiate e c'è quel momento terribile in cui coloro che si sentono in trappola pur di sfuggire alla morte per asfissia si lanciano nel vuoto no e cominciano a cadere alla spicciolata prima incursione dello sguardo di gimborska la fotografia li ha fissati vivi e uno non ci pensa perché noi vediamo quelle immagini pensiamo quelli sono morti è un momento ma nell'istante in cui è stata scattata la fotografia oppure nell'istante se preferite in cui è stato fermato il fotogramma loro erano ancora vivi e ora la fotografia che fa beh fa un po quello che fa la poesia certe volte li conserva sopra la terra verso la terra li conserva ancora vivi no ognuno e qui c'è una bella definizione di che cosa vuol dire essere vivi e integri no ognuno è ancora un tutto con il proprio viso e il sangue ben nascosto ricordate quando parlava della differenza tra la cipolla e in noi che ci sono queste visceri ritorti e questa violenta anatomia stento e dissimulata e nascosta dalla pelle no c'è abbastanza tempo in questo fermo immagine perché si scompiglino i capelli e dalle tasche cadano gli spiccioli le chiavi restano ancora questi uomini queste donne che cadono nella sfera dell'aria nell'ambito di luoghi che si sono appena aperti qui c'è qualcosa del volo di dedalo e icaro no è un'esperienza nuova per loro quella di volare senza supporti e c'è la meraviglia sia pure in un momento così tragico della dell'apertura di questi luoghi di questa sfera e poi il finale il finale che come al solito ci dà qui una diciamo più che sorpresa proprio come dire come se ci afferrasse nel nostro intimo no solo due cose posso fare per loro per questi uomini per queste donne che cadono descrivere quel volo senza aggiungere l'ultima frase anche qui come nella poesia dedicata alla bimbetta che tira la tovaglia la nostra nostro istinto di pensare che se c'è una fotografia di gente che cade io poi animo questa fotografia e arrivo all'inevitabile momento dell'impatto no e però qui c'è la potenza delle parole gimborska credeva fermamente nella possibilità di poter modificare il mondo grazie alle parole cosa che fa qui è un gesto di omaggio di umanità non aggiungo l'ultima frase l'ultima frase è quella che li farebbe schiantare al suolo ed è un gesto di fratellanza di umanità nei loro confronti bene a me resta di fare giusto un piccolo riepilogo dei superpoteri che abbiamo via via visto in rassegna che per me rappresentano insieme alla stravagante figura umana della della poetessa il motivo per cui sono ossessionato da lei e spero che anche voi lo siate abbiamo detto che è una poetessa che sa divertirsi con con le parole pur non perdendo mai la serietà tremenda la tremenda serietà di chi gioca con con le parole che non ha mai perso e si è rimproverata nel momento in cui quelle poche volte è successo la sua capacità di meravigliarsi una poetessa che sa dove guardare e di conseguenza sa scovare quei piccoli particolari nei quali si annida il senso delle cose particolari che a uno sguardo disattento passano inosservati e infine vi lascio con questa suggestione che anche diciamo l'ultima lettura che farò è in grado come neo di matrix di fermare le pallottole in volo la gioia di scrivere dove corre questa questa cerva scritta in un bosco scritto ad abbeverarsi a un'acqua scritta che riflette il suo musetto come carta carbone perché alza la testa sente forse qualcosa poggiata su esili zampe prese in prestito dalla verità da sotto le mie dita drizza le orecchie silenzio e anche questa parola fruscia sulla carta e scosta i rami generati dalla parola bosco sopra il foglio bianco si preparano al balzo lettere che possono mettersi male un assedio di frasi che non lasceranno scampo qui è come se gimborsca dicesse laddove c'è una cerva chi c'è c'è il cacciatore da bambi in poi no in una goccia d'inchiostro dice infatti c'è una buona scorta di cacciatori con l'occhio al mirino pronti a correre giù per la ripida penna a circondare la cerva e a puntare dimenticano che la vita non è qui altre leggi nero su bianco vigono qui un batter d'occhio durerà quanto dico io e si lascerà dividere in piccole eternità piene di pallottole fermate in volo posso fermare le pallottole in volo con la scrittura perché posso manovrare e gestire il tempo non una cosa verrà qui se non voglio senza il mio assenso non cadrà foglia né si piegherà stelo sotto il punto del piccolo zoccolo c'è dunque un mondo di cui reggo le sorti indipendenti si chiede alla fine un tempo che leggo con catene di segni un esistere a mio comando incessante risposta la gioia di scrivere il potere di perpetuare la vendetta di una mano mortale bene e io avrei concluso adesso provo a vedere se ci sono delle delle domande io per il momento non le vedo apparire qui sullo sullo schermo ecco grazie grazie francesco che mi fa che a cui è piaciuta questa 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 piccola discussione su su gimbosca questa specie di piccolo carotaggio nella sua poesia nella sua vita e sono d'accordo sulla definizione meravigliosa ma proprio l'aggettivo giusto perché desta meraviglia abbiamo detto che questo destare meraviglia per lei ha un presupposto che è quello di provare lei stessa meraviglia io non vedo sarebbe anche un bel modo per chiudere perché non vedo altre apparire altre domande e allora ne approfitto per dirvi un'ultimissima cosa vi consiglio di fare una così un esperimento che un esperimento di bibliomanzia si chiama cioè nell'antichità si prendevano i testi di riferimento a seconda il vostro credo religioso delle inclinazioni poteva essere omero l'ilia dell'odissea poteva essere l'eneide e o la bibbia naturalmente nel in questo caso si potrebbe fare con questo libro la gioia di scrivere che l'ultima poesia che abbiamo letto anche il titolo di questa raccolta e il mio invito è di aprirlo a caso così quando avete cinque minuti tempo aprirlo a caso e vedere che cosa viene fuori in questo caso è venuto fuori sulla morte senza esagerare che una poesia molto acuta come al solito che parlando della morte vi leggo solo i primi versi dice non si intende di scherzi stelle ponti tessitura miniere lavoro dei campi costruzione di navi e cottura di dolci la morte sa fare tante cose ma non so fare i dolci bene grazie anche a elena e vi saluto e ci saranno altre ossessioni per voi e presto arrivederci